di iniziare, poi anche se c'è qualcuno che si collega più tardi, eventualmente può segnare in chat se ha bisogno di qualche chiarimento o quant'altro. Allora, intanto io ringrazio tutti i partecipanti, io sono Elisa Guedi, sono coordinatore di Artex, per chi non mi conoscesse, anche se nella lista dei partecipanti ho visto tanti amici e questo mi fa piacere perché vuol dire che il tema che abbiamo individuato è di interesse per il nostro mondo e il nostro settore. Come Artex in collaborazione con Fondazione Ricerca e Innovazione rappresentata qui da Alessandro Monti, stiamo lavorando ormai dal 2017 su varie attività che in qualche modo vada un po' ad analizzare le tematiche dell'innovazione applicata e traslata sul settore dell'artigianato artistico tradizionale, ovviamente di questo tema non può non far parte la digitalizzazione, questo dà tempo. Poi ovviamente questa annata orribile del 2020 con la pandemia del Covid-19 ha ovviamente dato una sversata un'accelerata improvvisa e anche traumatica purtroppo a questo tema, lo ha dato sia per ciò che concerne i contatti, webinar come quello che facciamo oggi, quindi nessun evento in presenza, ma lo ha dato anche alle aziende, anche quelle aziende e quegli artigiani che fin qui magari avevano una presenza limitata sul web, magari il sito, oppure esclusivamente la pagina Facebook, ma comunque non avevano ancora affrontato in maniera strutturale il tema della presenza sul web e di varie forme di digitalizzazione, quest'anno purtroppo si trovano costretti in qualche modo ad affrontarlo un po' anche in alcuni casi di forza, perché è rimasta quella del web, quella della rete, l'unica finestra sul mondo, che sia un mondo di consumatori, quindi per eventi o iniziative B2C, che sia il mondo per gli operatori professionali, quindi iniziative B2B, sono stati cancellati tutti gli eventi, tutte le fiere, tutti gli incami, tutto ciò che rappresentava i principali canali di commercializzazione del prodotto e dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, si è in buona parte arrestato nel 2020, quindi qualcosa deve andare a sostituirlo al momento e ad affiancarlo probabilmente successivamente, perché non è che si tratti di una soluzione ponte e poi si torna al tradizionale tout court, ciò che è stato fatto quest'anno si abbandona, sicuramente saranno degli strumenti che andranno a integrarsi con il virtuale a sostegno del fisico, quindi su queste tematiche vogliamo fare, su queste tematiche o su altri comunque, una serie di incontri, di cui questo è il primo, e ringrazio il professor Danio Berti per la sua presenza, perché vogliamo anche andare ad approcciarci e a facilitare l'approccio del mondo dell'artigianato artistico e tradizionale a questo settore con un minimo di consapevolezza, quindi non soltanto andare a dire questa piattaforma oppure questo strumento di cui parlava prima al professor Berti, ma anche perché e come e qual è il modo più sensato di approcciarsi a questi strumenti, quindi anche una visione un pochino più di cultura digitale, non soltanto di uso degli strumenti più belli che siano, però in maniera non consapevole. Ecco, questo è un pochino il nostro obiettivo, quindi di avvicinarci, anche tutti insieme, io parlo anche per me che sono tutto forte digitale e quindi non amo particolarmente i social o quant'altro, però sono strumenti in questa fase imprescindibili di un'attività professionale e quindi trovare dei punti di approdo e di approccio che siano compatibili per le caratteristiche delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale che contemporaneamente garantiscano a loro un approccio, torno a dire, consapevole, sensato e non affrettato, quindi anche senza inseguire magari una serie di chimere o di sirene che in questo momento suonano molto seducenti ma che magari non sono adeguate e adatte a quelle che sono le caratteristiche delle imprese. Quindi spero che questo seminario sia di vostro interesse, vi invieremo Costanza, che ringrazio per il lavoro fin qui svolto, vi invierà comunque alla fine del seminario anche un questionario per capire anche eventuali ulteriori temi di vostro interesse e anche per capire un attimo meglio come strutturare gli incontri successivi. Vi ringrazio e lascio la parola a Alessandro. Grazie. Grazie Elisa, vi saluto anch'io tutti da parte dell'Università di Firenze, io appartengo appunto alla Fondazione dell'Università di Firenze, è un piacere essere qui oggi e l'Università e tutte le sue emanazioni, la Fondazione e molte altre, ormai da molti anni sono impegnate sul territorio per cercare di dare il loro contributo, cercare di aiutare il territorio a risolvere i problemi e mai, come quest'anno con il Covid, credo che sia da parte nostra un impegno necessario, dovuto e anche abbastanza importante in qualche modo da portare sul territorio. Quindi sono contento di essere qua e spero che davvero questo sia l'inizio di un percorso. Quindi oggi Elisa ha toccato dei temi fondamentali, io vi rubo solo 20 secondi prima di passare poi la parola al professor Berti che introdurrò e presenterò. Elisa ha predicato calma e questa è una cosa fondamentale. Calma è sangue freddo perché ci sono molti strumenti, ma come già visto in passato, cito l'Industria 4.0 di qualche anno fa, non tutto è per tutti e non tutto può essere preso, messo in un'impresa, in un'azienda, sia essa artigiana o di altre dimensioni, e immaginarsi che viva di moto proprio, viva di vita indipendente. Ecco, serve un percorso, serve un percorso per capire cosa c'è, cosa serve e cosa non serve, e ciò che serve è come, quando e perché valga la pena in caso introdurlo all'interno della propria attività imprenditoriale. Ecco, questo è secondo noi la cosa più importante. L'università per antonomasia non fa consulenza, l'università avvia percorsi di innovazione, quindi qualcosa che sia a lungo termine. Ora, non fraintendetemi, non voglio dire che ci vorrà dieci anni per arrivare a qualcosa di concreto, no, un percorso può durare anche un'ora sola, ma è un percorso, cioè è una fase a tappe in cui si analizza, si approfondisce, si valuta e poi si intraprende. Quindi quella calma che predica Elisa è veramente fondamentale, mi fa davvero piacere sentire queste parole, perché sfortunatamente in questo momento molti si avvalgono della soluzione mordi e fuggi che poi non funziona proprio, quindi alla fine è quasi più un danno che si va a sommare ai purtroppo danni creati appunto dalla pandemia in corso. Quindi io rimarrò qui a disposizione oggi e per il percorso appunto che intendiamo avviare, quindi vi saluto, vi auguro un buon webinar e introduco il professor Berti, un esperto, come avrete sentito, di marketing digitale e quindi una persona che oggi ha l'obiettivo di raccontarvi tante cose, aprirvi tante porte, meglio, tante finestre. Da queste finestre vedrete, capirete e inizierete appunto questo percorso. Non proseguo ulteriormente, professor Berti, Danio, a te the floor direbbero gli americani, non so come si dice in italiano. Va bene, ma capito benissimo. Grazie Alessandro, grazie Elisa, grazie Costanza, grazie ad Artex. Ovviamente oggi parlare di digitale vuol dire entrare in un mondo, ma oltre alla calma io aggiungerei che Elisa ha citato, direi anche come dire attrezzarsi da un punto di vista culturale. Cosa vuol dire attrezzarsi? Mi sentite bene? Mi vedete bene? Sì? Mi date un cenno? Perfetto, grazie Elisa. Perfetto. Benissimo, grazie. Allora io mi aiuterò con alcune slide, ma vado a introdurre quello che faccio nella vita. Io insegno web marketing e comunicazione alla scuola di economia a Firenze, economia aziendale, ormai da diversi anni, e ho insegnato marketing di base, e dirigo insieme alla collega, la professoressa Raffagni, un laboratorio di marketing digitale che si chiama WEM Park, WEM, W-E-M-Park, WEM Park. Poi magari lo scriviamo nella chat se qualcuno è interessato. Perché? Perché è un laboratorio aperto, fondamentalmente facciamo tante attività, quindi chi di voi fosse curioso, ovviamente su questa disciplina, sul mondo della disciplina, il nostro laboratorio ha sempre le porte aperte. Ma detto questo, di che cosa ci occupiamo al laboratorio? Di generare cultura digitale, cioè far comprendere che la galassia, il mondo digitale, il mondo del web marketing è un mondo complesso, occorre conoscerne, come dire, di questo mondo i meccanismi di funzionamento, e occorre soprattutto, come dico io, soprattutto si tratta di fare impresa, quindi elaborare un'intenzione strategica per approcciare a questa, oggi a questo mondo. Quindi oggi vedremo insieme alcuni, come dire, alcuni spunti di riflessione, partendo da che cosa? Da quello io cercherò in pochi minuti di farvi capire che cosa sta succedendo qua fuori, dal punto di vista digitale, come potersi attrezzare, quindi affrontare questa complessità, con quale strumenti, e poi vi farò vedere alcuni casi, in questo caso di successo, di artigiani che sono entrati in rete, e devo dire, insomma, dalle ultime esplorazioni che abbiamo fatto, esplorazioni, non solo esplorazioni, qualcuno lo conosco, anche personalmente dei casi che vi mostrerò, ha avuto un certo successo e quindi lavora con il canale digitale in modo soddisfacente. Mi aiuterò con delle slide, quindi vado in presentazione slide, per cui poi, se ovviamente ci fossero delle domande che lasciamo magari, o al termine, ma se qualcuno volesse anche interrompere, Costanza, che legge sulla chat, potrà interrompermi. Bene. Benissimo. Vado in condivisione schermo, quindi andiamo ad attivare delle slide che tra due secondi dovreste vedere. Immagino che stiate vedendo lo schermo. Sì. Benissimo. Vado in presentazione. Ok. Se lo vedete anche così, posso eliminare la... posso eliminare anche... Ecco, va bene. Perfetto. Va bene, perfetto. Ci siamo. Allora, vedete il titolo di questo webinar, Piccoli passi per una strategia digitale consapevole. Dicevo appunto questo concetto della consapevolezza, come affrontare la rete. Allora partiamo velocissimamente da comprendere quello che avviene qua fuori. Tanto per darvi due numeri. Noi siamo oltre 7 miliardi, 7 miliardi e mezzo, circa centinaia di milioni, più o meno, a livello mondiale nel mondo, come dire, uomini sulla terra e di questi 4 miliardi e mezzo stanno dentro la rete. Pensate. Ora qualcuno di voi potrebbe dire sì, però ne mancano circa altri 3 miliardi che fanno questi. Sono i grandi esclusi. Ahimè, no. Perché? Perché ci sono i grandi, come per esempio Google X, che sapete essere uno dei più grandi centri di ricerca di Google, addirittura stanno lavorando su progetti segreti, il quale, come dire, a presto darà connessione anche nei luoghi più reconditi del mondo. Quindi non vi preoccupate, sempre più persone sulla terra entreranno dentro la rete. Ma di questi poi 4 miliardi e mezzo, circa un 3 miliardi e mezzo stanno dentro i social network, in particolare uno che si chiama Facebook, ma sta crescendo, per esempio, anche Instagram, tanto molto molto bene, ma è la stessa famiglia poi fondamentalmente di Facebook. E questo, perché questi numeri? Per dire che l'internet oggi, come dire, qualcuno direbbe un male necessario, no? In realtà è un canale, per accedere a un mercato alternativo al canale analogico-fisico. Ma pensate che cosa vuol dire oggi. Ma a noi, da un punto di vista economico, come economisti e come uomini di marketing, ci interessa comprendere il funzionamento di questa grande galassia digitale. E allora, vedete qua, c'è qualche numero in questa slide che trovate ovviamente anche su internet, non c'è bisogno, come dire, di grandi studi per comprendere come in 60 secondi, capite bene, succedono delle cose incredibili. Vedete, questo è un dato 2019, alla fine del 2020 avremo i dati attuali e sicuramente saranno assai superiori a questi. In 60 secondi, pensate, per esempio, guardate Google, non so se vedete il mio mouse che scorre sullo schermo, Google, vengono fatti ogni 60 secondi circa 3 milioni e 800 mila richieste di ricerca. Ora, è vero che qualcuno dice, mi potrebbe dire, ma Google è un monopolista, è vero? Perché in Google passa, dovete sapere, oltre il 93,6%, siamo intorno quasi al 94% di tutto il traffico, diciamo, della rete, quindi è un monopolista di fatto. Anche se, tra parentesi, apro una parentesi, incominciano a nascere degli anti-Google, dei piccoli anti-Google. Uno, però, ve lo voglio suggerire, che è molto interessante, perché voi sapete che Google è un po' avversato per il semplice fatto che in qualche modo ci segue da tutte le parti, ci ascolta probabilmente, ma non mi voglio dilungare su questo, ci sarebbe da parlare assai, ma per esempio un piccolo anti-Google che forse non conoscete, magari io lo sto utilizzando, tra l'altro mi sto trovando molto bene, si chiama Duck, come Duck Oka, Duck Go Go, Duck Go Go. Detto questo, ecco, vedete il fenomeno rete, 3.800.000 richieste ogni 60 secondi, pensate quante ore Netflix sono viste in 60 secondi, 694.440 ore di film, e così via. Pensate, come dire, 18 milioni, vedete, di WhatsApp mandati, di testi mandati, e così via. Quindi la rete non si può più prescindere oggi per fare impresa dalla rete, ma quello che interessa a noi è, come dire, comprendere dove stiamo andando e da dove siamo venuti, e quindi comprendere quello che poi vedremo essere il consumer behavior, cioè il comportamento del consumatore nei vari contesti, nella rete. Allora, incomincio con esporvi questa slide che vi potrà sembrare un po' strana, ma in realtà spiega tante cose. Perché? Perché avere la consapevolezza di da dove si viene, dove stiamo andando, vi può far riflettere su alcune cose. Allora, guardate, questa slide ci dice che cosa? Che oggi siamo entrati in una relazione con il mercato, e quindi si dice, vedete il titolo, da all marketing verso i consumatori, fino a ieri noi si facevano, le imprese facevano marketing verso il mercato. Adesso siamo passati a un marketing con i consumatori. Questa è una citazione di un famoso sociologo italiano, che è Gian Paolo Fabris, che vi invito a leggere, ha scritto tante cose, per esempio molto sul brand, sulla marca e così via, dove si spiega un concetto. Cerchiamo di comprendere bene questo concetto. Tutto nasce in Italia, si parte in Italia dal 1900, vedete, il 95 in basso, nel nostro grafico, perché per la prima volta arriva internet in Italia. Apre a Roma il primo ISP, il primo Internet Service Provider, e le persone possono accedere alla rete. possono accedere alla rete e, come dire, i primi curiosi, io sono stato uno di quelli, vedete i miei capelli bianchi, quindi sono un baby boomers, poi capirete tra poco chi sono i baby boomers. Come dire, nel 1995, come tanti, sono entrato nella rete e fino al 99, vedete, al 99, ora spiego perché, questo 1999, abbiamo un marketing 1.0, dove il consumatore, il nostro consumatore, è passivo, sta seduto su una sedia, su una poltrona, vedete, seduto sulla poltrona, esplora la rete, esplora la rete senza alcun tipo di interazione con nessuno. Incominciano in quegli anni, dal 95 in poi, 97, 98, 99, iniziano che cosa? Le prime esperienze, per esempio, di e-commerce, spesso e volentieri fallimentari, tant'è che, se voi andate a rileggere i titoli dei giornali economici, ad esempio, il Sole 24 Ore, anche in quel periodo, titolavano, come dire, più o meno tutti i giornali economici, Old Economy versus, cioè contro, la New Economy. Pareva che la New Economy, la nuova economia, fosse una roba completamente diversa dalla Old, e che quindi, a un certo punto, questa Old Economy, questa economia vecchia, poi nel 99, di fatti, sembrava che avesse vinto. Perché? Perché nel 99, c'è la prima grande crisi del web, pensate, do un dato e basta, quindi, tra il 95 e il 99, tanti corrono, si parlava di Eldorado, della rete, affari e-commerce, però nessuno compra, e quindi, c'è una sorta di fallimento, della rete, e dicevo, perché il 99? Perché, oltre a questi titoli, Old Economy versus New Economy, si arriva nel 99, come c'è un crollo di borsa, un crollo di borsa di tutti i titoli, come dire, legati a esperienze da start-up, diremmo oggi, legate al mondo del web. Ora, su tutti i tiscali, voi vi ricorderete, vi ricordate ancora, vive e vegeta tiscali, se andate a vedere i dati, alla fine del 99, tiscali era già quotata in borsa, e aveva una capitalizzazione di borsa di oltre il 200%, dagli inizi del 2000, fine del 99, inizi del 2000, il titolo crolla, e praticamente il titolo crolla, e come dire, la New Economy diventa, tant'è che i giornali, pensate, titolarono che cosa? È scoppiata la bolla della New Economy, è scoppiata la bolla. Perché? Perché tutto era gonfiato, tutto era. Attenzione, mentre noi, quando siamo entrati, Italia nel 95, in rete, e ovviamente le imprese non c'erano in rete, si stavano attrezzando, le prime piattaforme, le presenze di e-commerce si hanno dal 97, 98, io a quei tempi già facevo esperienza, per esempio, col gruppo Cassa di Risparmio di Firenze, non si chiamava intesa San Paolo, a quei tempi, e mi ricordo iniziare delle collaborazioni tramite un mio professore, a quei tempi, il professor Giovanni Marsili, il quale, per esempio, mi indirizzò verso questa strada, la strada del marketing digitale, e quindi ebbi modo di vedere anche il fallimento in quel momento di alcune esperienze di e-commerce. Però quello che ci interessa è che comunque si passa a una prima fase, che ripeto, è caratterizzata da anni di sperimentazione, quando, tra l'altro, negli Stati Uniti già si poteva fare tutto in rete, si poteva andare a comprare qualunque cosa. Poi magari in un altro seminario vi racconterò la mia esperienza o se qualcuno è interessato, la mia prima esperienza di navigazione fa sorridere, ma insomma, mi occorrerebbe un po' di tempo. Quindi nel 99 scoppia la bolla e tutti gli investimenti nel digitale si fermano, rallentano, nessuno più investe e, come dire, vedete, tra il 99 e il 2004 c'è un periodo in cui però succede qualcosa. Addirittura, siamo intorno al 2001-2002, pensate, succede qua, accade qualcosa che cambierà per sempre la connotazione della rete, cioè nascono i primi social network. Perché dico nascono i primi? Perché il primo social network non è certamente Facebook che nasce, come vedete, ho messo la data, nel 2004. Facebook si afferma perché riesce a fare velocissimamente in poco tempo ciò che altri, come dire, social network non hanno saputo fare, cioè aggregare in pochissimo tempo tante, tante, tante persone. In realtà il primo, pensate, il primo in assoluto e viene riconosciuto come social network, prende il nome di Six Degrees, cioè prende il nome dalla teoria dei sei gradi di separazione. Teoria dei sei gradi di separazione che niente ha a che fare con la rete, ma che forse, non so, qualcuno di voi forse non la conoscerà, quindi la racconto perché sennò magari in rete la potete andare a cercare, teoria dei sei gradi di separazione, ma che cosa dice molto velocemente? Dice che se noi spediamo, quindi non c'entra niente ripeto con la rete, poi vedremo però la connessione con la rete successivamente, se noi spediamo un pacco, pensate, dalla costa atlantica New York e lo spediamo alla costa pacifica a San Francisco ad esempio, siamo negli Stati Uniti, questo esperimento viene fatto lì per la prima volta, questo pacco non lo inviamo però attraverso la posta ordinaria, ma iscrivendo un nome e un cognome di una persona che non conosciamo e non ci scriviamo l'indirizzo, pensate, e lo dobbiamo recapitare magari che sta a San Francisco, sappiamo che sta a San Francisco senza sapere la strada, nome e cognome di una persona che non conosciamo. Allora come facciamo a recapitare questo pacco? Magari lo consegniamo a un nostro amico che sappiamo avere delle relazioni con qualcuno che sta a San Francisco, lo consegniamo il pacco con la preghiera di portarlo quando va a San Francisco in quella città e poi consegnarlo a un amico che magari conosce altre persone e così via. Ebbene, la teoria dei sei gradi di separazione che cosa dimostra? Dopo tante sperimentazioni che in media questo pacco fa sei passaggi, quindi passa sei volte di mano per arrivare a destinazione allo sconosciuto. Questo fisicamente. Pensate, qualche anno fa è stato rifatto questo tipo di esperimento attraverso come dire la rete, attraverso Facebook. Lo sapete da sei gradi di separazione quanto è passato? A 3,4. Qualche anno fa. Oggi forse con tutti questi numeri che abbiamo detto probabilmente ancora l'esperimento ci darebbe come dire un risultato inferiore. Tutto questo che cosa vuol dire? Questo è quello che mi interessa farvi comprendere. Vuol dire attenzione che il mondo è diventato piccolo. Come dice Igvar Kamprad il mondo è un piccolo paese. Già come dire questa roba intanto ci fa riflettere ma c'è un altro aspetto che avviene tra il 99 e il 2004 e cioè attenzione nascono questi primi social network ad esempio a livello europeo abbiamo anche Luna Storm e così via per arrivare prima del 2004 ma i social network perché sono importanti? Perché introducono il concetto di relazione. Vedete il consumatore interagisce a uno strumento di interazione con altri consumatori con altri cybernauti ci si parla e si incomincia un'interazione che diventa un'interazione prima diadica cioè a due e poi un'interazione sempre più collettiva. Però attenzione se noi leggiamo questo fenomeno dal punto di vista dell'impresa la cosa è ancora cioè dal vostro punto di vista di imprenditori è ancora più interessante lo sapete perché? Perché a partire dal 2004 le imprese quindi con la nascita di Facebook e poi pian piano con tutti gli altri oggi social network le imprese incominciano a fare questa considerazione dice ma lì dentro dentro questi ambienti dentro questi ambienti sociali ci sono i nostri consumatori allora anche noi dobbiamo stare lì dentro ma per fare cosa? Intanto apriamo una pagina e intanto osserviamo che cosa dicono i nostri consumatori quindi le imprese si rendono conto che dentro questi contenitori queste reti sociali ci sono dei soggetti che parlano 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 perché in rete si parla tanto e come dire parlano allora entrano non tanto per dire io vendo questo prodotto piuttosto che quest'altro no no ma per ascoltare quello che si dice e la cosa interessante è che inconsapevolmente vedete questi vado con il mouse così lo vedete bene questi consumatori che interagiscono fra di loro diventano inconsapevolmente dei consumatori co-creativi che cosa vuol dire consumatore co-creativo vuol dire che attraverso la loro narrazione attraverso le loro chat quello che dicono quello di cui parlano ora poi facciamo un esempio che trovate su tutti i testi di marketing digitale su tutti i manuali di marca o perlomeno su alcuni ecco che l'impresa ascolta quello che si dicono le persone nei vari blog forum e così via una volta che si ascolta ecco che l'ascolto diventa interessante perché si va a modificare il prodotto che magari è stato lanciato sul mercato e che può presentare qualche problema quindi ad esempio il primo uno dei primi casi studiati è stato quello della Ducati ora quando si parla di Ducati capite bene Ducati i Ducatisti come gli Alfisti come i Nutellisti immagino che tutti voi siate iscritti alla digital community della Nutella Ferrero quella la crema spalmabile se non l'avete fatto fate perché è una cosa fantastica chiusa parentesi però ecco ci sono queste comunità dove si parla e allora Ducati ascolta quello che si dice e nell'ascolto magari viene fuori che nel racconto delle varie prove e test un centauro dica ad un altro guarda ho fatto il muraglione sto inventando ma anche poco e ho sentito ho questo questo modello di moto ho sentito una vibrazione posteriore eccetera e uno risponde magari sta a Torino dice anch'io e così via e quindi si discute di questa vibrazione posteriore Ducati ascolta e come dire memorizza e interviene e cerca di comprendere il problema quindi inconsapevolmente il consumatore dà dei consigli sostanzialmente all'impresa qui ci sono tanti casi ripeto ma la cosa più interessante che da svolgere questo compito come dire di co-creatore in maniera consapevole sempre di più con il tempo vedete via via che si va avanti nel tempo il nostro consumatore assume un ruolo sempre più attivo nella in questa economia digitale sempre più attivo tanto che diventa quello che viene chiamato vedete in rosso qua siamo già entrati in quello che viene definito il marketing o l'economia 4.0 cioè un craft consumer che cos'è il craft consumer il craft consumer è un consumatore che vuole fare è un consumatore artigiano artigiano craft in inglese vuol dire artigiano gli piace lavorare fare delle cose quindi ecco che allora l'impresa attenzione qui c'è un passaggio molto interessante non fornisce più ovvero fornisce anche ancora soluzioni codificate al nostro cliente al nostro consumatore ma allo stesso tempo cambia approccio al mercato e da un approccio si dice in gergo tecnico problem solving si passa ad un approccio problem finding cosa significa questo problem solving e problem finding perché noi siamo come consumatori abituati facciamo un esempio concreto per capire bene noi siamo abituati come consumatori ad esempio andare al supermercato e compriamo ad esempio la birra compro della birra quando vado a comprare la birra il produttore attraverso il suo canale distributivo che cosa fa ci vendo un liquido una bottiglia che noi apriamo e consumiamo quindi ci dà una soluzione ad un nostro bisogno è una soluzione codificata compri questa birra i knusa piuttosto ora non detto knusa a caso perché knusa è un caso di marketing molto interessante quindi do questo tipo di input quindi compro la birra soluzione codificata però attenzione se si cambia l'approccio e si passa da una soluzione problem solving quindi compro la birra a dire invece una roba diversa a pensare che cosa ti do gli strumenti io impresa ti fornisco gli strumenti perché tu possa risolvere il tuo problema in autonomia che vuol dire vuol dire che io ti vendo gli strumenti per farti la birra in casa ad esempio e nasce birra mia se andate a vedere birra mia non so molti la conosceranno sicuramente è un portale che si è affermato in questo senso ecco che allora birra mia ti fornisce il kit per farti la birra in casa quindi noi attenzione non è che questa economia nuova questa economia condivisa qualcuno la chiama sharing economy qualcuno la chiama economia chiamatela come vi pare non è che sostituirà la vecchia economia state tranquilli la complessità lo sapete qual è è che esisterà l'una e l'altra quindi esisterà il produttore ancora di birra che produrrà e venderà tramite il supermercato o i negozi specializzati ma esisterà anche quello che venderà il kit per fare la birra ora però il nostro consumatore di birra dovete sapere la prima volta consuma birra quindi compra il kit da birra mia prova in casa a farsi la birra e onestamente la prima prova in genere non viene un gran che bello ora io racconto della birra perché è un mercato che ho studiato al nostro laboratorio studiamo tanti mercati facciamo tante tesi di laurea su come dire verticali sui vari settori per cui insomma qualche cosa vi posso raccontare sul mercato della birra quindi il nostro consumatore la prima volta va compra prova a fare la birra però il risultato non è che venga proprio buona questa birra però ha capito dove ha sbagliato ritorna sulla piattaforma sullo shop ricompra una seconda birra va meglio va meglio la seconda esperimento come dire è sulla strada giusta la terza volta sta diventando ormai ha verticalizzato le sue conoscenze che sta diventando un mastro birraio la quarta volta però dovete sapere che raramente torna sulla piattaforma birra mia lo sapete cosa fa la quarta volta il nostro craft consumer la quarta volta va a giro per la rete magari a cercarsi gli orzi più esclusivi i malti più esclusivi e tutto gli ingredienti più particolari per fare la sua birra la birra che altri non possono fare e lui diventa sempre più craft perché a quel punto come dire si è così informato in rete è diventato così bravo che farà sperimentazioni sempre più evolute qualcuno di voi però mi dirà senz'altro questo è quello che mi sento dire spesso da imprenditori sì però lei fa casi sempre molto particolari ahimè no perché perché il craft consumer è stato già preso in considerazione anche dalle grandi imprese un esempio su tutte Barilla se voi andate a vedere su YouTube e andate a digitare stampante 3D Barilla pasta Barilla vedrete che cosa sta per lanciare cosa ha già presentato Barilla sul mercato una stampante 3D che ovviamente al posto dell'inchiostro ci mettete la pasta di semola di grano duro che andrete a comprare al supermercato però con l'eccezione che in quel caso non farete il solito spaghetto numero 5 che Barilla continuerà a vendervi al supermercato ma andrete a comprare una ricarica perché potrete fare il tipo di pasta che più vi aggrada perché siete voi che andrete a progettare sapete per fare la pasta ci vuole la trafila la trafila cioè di buchini e allora io mi sono progettato ad esempio il grande chiocciolone Berti che vi invito tutti a cena a sperimentare il chiocciolone Berti così come ad esempio Alessandro piuttosto che Elisa faranno la loro pasta il loro tipo il loro formato di pasta di sapore e così via a noi piace fare le cose se noi vediamo quello che sta succedendo dall'osservazione in rete in questo momento guardate le persone come dire stanno comprando tanti oggetti che gli consentano poi di fare pensate in questo lockdown guardate un dato che è venuto fuori in maniera incontrovertibile più c'è alcuni dati come dire ancora vanno presi con le mole perché non sono stabili ma faccio un esempio più 135 140% di alcuni generi alimentari lo sapete gli italiani durante il lockdown che cosa hanno fatto tra le tante cose che hanno fatto in casa hanno fatto tanti dolci tanto pane hanno consumato tanta tanta farina la farina è andata a Roma di tutti i tipi lo sapete cosa hanno fatto hanno essiccato hanno essiccato tante tante cose a cominciare dalla frutta tutti coloro che come dire hanno un orientamento come dire di alimentazione non dico tanto vegana ma sostenibile chilometro zero eccetera hanno scoperto per esempio che in Italia c'è il primo produttore di essiccatori da tavolo e che è un'ottima impresa che compete a livello europeo perché una volta l'essiccatore è un essiccatore come dire solo industriale oggi si va a comprare come la planetaria si compra l'essiccatore da tavolo è un nuovo e questa azienda da zero come dire si è trovata a vendere delle quantità incredibili di essiccatori da tavolo compreso il sottoscritto Taurus essiccatori non mi danno la provvisione state tranquilli questo per dire che cosa che ci sono dei fenomeni particolari che si leggono noi che studiamo noi osserviamo la rete in questo momento ad esempio attraverso strumenti di analisi e di rilevazione di ciò per esempio che cercano le persone in rete con strumenti anche abbastanza sofisticati poi magari vi citerò anche uno di questi ad esempio è SEMrush una piattaforma importante ecco per esempio cosa si vede in questo momento le persone che cosa stanno cercando tanti regali di Natale se andate su chitarre elettriche c'è per esempio non so chiedi ora voi siete artigiani come dire lato artistico quindi non siete produttori di chitarre elettriche ma certamente si ricercano tanti oggetti che hanno una grande stagionalità l'importante è in questo caso avere la consapevolezza di come si va a intercettare questo tipo di domanda però vado oltre quindi siamo sempre più di fronte ad un consumatore artigiano che vuol fare però noi vedete qui c'è un'altra data messa in rosso è una data che noi abbiamo attraversato è messa in rosso perché perché non ci siamo accorti in realtà che siamo già entrati in quella che è l'economia come dire 5.0 in quello che è il marketing 5.0 che qualcuno definisce il big marketing siamo nel 2017 noi l'abbiamo oltrepassato questa data senza accorgerci di niente ma nel 2017 è avvenuto qualcosa di incredibile per l'umanità addirittura pensate e c'è un riferimento vedete la fonte è Mario Rasetti che cosa succede il professor Rasetti che è come dire membro è un fisico quantistico nonché presidente dell'Easy Foundation che cosa dice dice elabora la teoria del tempo del raddoppio cosa dice in sintesi dice attenzione nel 2017 tra il gennaio 2017 e il novembre 2017 l'umanità ha prodotto così tanti dati da uguagliare tutti i dati che l'uomo ha prodotto nel corso della sua storia dalla preistoria ad oggi capite che cosa vuol dire vuol dire che in undici mesi nel 2017 abbiamo generato come dire tanti dati i dati fra di loro si correlano e diventano informazioni quindi l'uomo oggi nell'economia 5.0 nel big marketing come dire no un altro un altro come dire un'altra denominazione può essere i big data voi avete sentito siamo nell'era dei big data ecco queste grandi masse come dire di dati ci li utili perché grandi masse perché oltre a produrli noi come dire con le nostre attività umane anche gli oggetti si parla per esempio di IoT internet of things anche le cose parlano io per esempio al laboratorio ho un mio personal speaker come dire un digital speaker e i Google tutte le mattine quando arrivo ora non ci vado più spessissimo al laboratorio ma perché lavoriamo come vedete anche molto da casa quindi quando vado al laboratorio lo saluto e i Google buongiorno la seconda domanda che gli faccio è mi racconti una barzelletta e lui mi racconta ora più che barzelletta racconta freddore a dire la verità però mi racconta la barzelletta ma quello che posso fare io è istruirlo perché lui è guidato da quella che è poi come dire un'intelligenza artificiale che apprende sulla base della mia interazione di come io interagisco con lui ora apro una parentesi stiamo facendo la gara con un collega che sta a Milano a chi istruisce meglio il proprio i Google lui è in vantaggio perché come dire lui ce l'ha in casa quindi lo istruisce dalla mattina alla sera io ce l'ho al laboratorio quindi un pochino ho perso dimestichezza ad ascoltare la mia voce però chiusa parete quindi nel 2017 si apre questa roba qua si apre questo mondo del mondo come dire dei grandi dati perché diventa importante leggetevi un libro bellissimo di Alessio Semoli che è molto semplice divulgativo ma come dire insomma per comprendere questo mondo che si intitola AI Marketing Artificial Intelligence Marketing di Alessio Semoli ecco guardate che che cosa si apre si apre uno scenario vedete dove il nostro consumatore continuerà a essere craft continuerà perché a noi piace fare piace fare però allo stesso tempo diventeremo sempre più vedete AI Consumer che cosa vuol dire consumatori guidati dall'intelligenza artificiale allora ritorneremo seduti come lo siamo stati nella prima fase lo sapete perché ritorneremo seduti perché in questo modo adesso l'intelligenza artificiale ci guiderà nelle nostre scelte quando noi come ne siamo così altamente profilati che quando noi andiamo poi per esempio a fare un acquisto a Amazon piuttosto che e questo guarda è consigliato anche per te le altre persone come te hanno comprato anche questo pensate quando voi aprite Netflix o qualunque altra piattaforma di tv o di web tv piuttosto che di altro che cosa vi vengono consigliati i film per voi sulla base dei vostri gusti delle vostre preferenze di visione e tutto questo è fatto con intelligenza non c'è un omino dietro che dice aspetta Danio Berti allora gli faccio vedere film storici o film no c'è un'intelligenza artificiale che consente di fare questo quindi saremo sempre più guidati e quindi ritorneremo seduti fino a comprendere ecco pensate che tutti gli avalisti ci dicono che ancora il bello deve venire nel senso che siamo ancora quasi stiamo arrivando a una nuova rivoluzione della rete e nuove tecnologie si stanno affacciando e sono peraltro attenzione tecnologie molto interessanti per voi una su tutte la blockchain quindi ovviamente non abbiamo oggi il tempo di parlarne ma dico attenzione andatevi a informare perché sarà un potentissimo strumento per l'economia e per le imprese soprattutto imprese come voi che esprimono passatemi un termine che lo rubo da Francesco Morace che è un sociologo lui ora tra l'altro io vi saluterò come dire con una sua citazione ma è anche un amico Francesco Morace andatelo a vedere in rete Francesco Morace il quale è titolare di Future Concept Lab di un osservatorio di un osservatorio sui sulle sulle abitudini di di consumo del dei giovani soprattutto nell'ambito moda e quindi è un osservatorio lui dirige un laboratorio che è un osservatorio sui fenomeni della del fashion quindi sul comportamento di acquisto e di consumo di prodotti per la moda molto noto che ha sedi in tutte le principali capitali del mondo quindi pensate un istituto di ricerca particolarmente di ricerca sociale particolarmente interessante ecco quindi entriamo in questo nuovo mondo e come dire è tutto ancora da scoprire perché non è scritto ancora niente bene vado velocemente perché vedo che il tempo sta scorrendo vi vorrei raccontare un sacco di cose qui vi ho riportato in maniera delle pillole proprio delle pillole su quelli che sono state le grandi tendenze perché noi ciò che siamo oggi non è frutto soltanto di questo lockdown che arriva di questo covid che arriva a febbraio a gennaio già in Cina come dire a novembre ottobre novembre del 2019 ma siamo frutto di tante cose che vengono da lontano allora molto velocemente noi siamo sempre più questo lo dice vedete è virgolettato poi vi dico chi lo dice ma ce l'avete anche nella nota sempre più consumatori anarchici Italo Piccoli che è un professore insegna alla cattolica come dire sociologia dei consumi lui dice io ho avuto occasione di conoscerlo lui dice attenzione il consumatore di oggi è un consumatore che ha un comportamento anarchico cioè non prevedibile questa anarchia comportamentale come dire inizia nel 2000 e oggi continua anzi direi che la curva potrebbe essere rappresentata in maniera un pochino più come dire ascendente abbiamo poi un altro paradigma al rapporto all'uguaglianza qualità uguale prezzo perché noi come consumatori quando andiamo a comprare qualcosa si paragona si fa il confronto tra ciò l'oggetto la qualità tecnica che noi compriamo degli oggetti con il prezzo che sosteniamo quindi con il sacrificio economico che diamo in cambio bene questo semplice paradigma qualità prezzo nella nuova economia come dire in qualche modo non regge più da solo regge ancora parzialmente ma sempre meno perché perché a questo bisogna aggiungere un'ulteriore uguaglianza che prende il nome di profittabilità intesa in che senso la profittabilità attenzione intesa nel senso che noi ogni volta che effettuiamo un acquisto poi vi faccio esempio per esempio su questo si fondano anche gli outlet come dire dobbiamo provare il piacere gratificazione di aver fatto l'affare in quel momento perché perché siamo stati bravi a trovare il prezzo più adeguato per noi quindi la qualità prezzo uguale profittabilità dove profittabilità sta per autogratificazione siamo stati bravi perché abbiamo saputo cogliere l'occasione in quel momento e non ce la siamo fatta sfuggire guardate le logiche della rete funzionano molto su questo tipo come dire di paradigma paradigma cioè l'occasione l'occasione pensate che cosa è successo anche ora recentissimamente durante il Black Friday ho dei dati di qualche vendor che sono abbastanza impressionanti di quanti click sono stati fatti cattedrali del consumo cosa vuol dire cattedrali del consumo attenzione vuol dire cattedrali che questo concetto di profittabilità nasce e si sposa bene per esempio con i grandi outlet qui come dire vado prendo in prestito questo questo titolo da George Ritzer che è un altro sociologo leggetelo un bellissimo testo di George Ritzer dove lui cita come dire luoghi dell'iperconsumo e quindi basta che digitiate su Google George Ritzer e lui nel titolo appunto cita il concetto di cattedrale del consumo perché perché oggi noi prima pre-pandemia ovviamente che cosa facciamo passiamo del tempo andiamo a socializzare nei centri commerciali per esempio quindi famiglie che partono la domenica partivano la domenica poi ci ritorneremo senza non si sa quando ma ci ritorneremo stati tranquilli partono vanno in ai gigli per esempio passano la giornata ai gigli poi magari vanno all'Ikea e così via fanno ecco la cattedrale del consumo quindi la metafora della cattedrale perché nel medioevo si andava magari a partecipare alla missa magari si rimaneva fuori perché all'interno della chiesa entravano soltanto i notabili ma era luogo di socializzazione così come luogo di socializzazione non solo di acquisto sono queste grandi cattedrali questi centri commerciali attenzione qui si va a riprendere poi sotto il concetto sempre di Francesco Morace che abbiamo un altro sociologo che abbiamo citato che è la contaminazione culturale dei consumi vedete la curva della contaminazione culturale se noi veniamo da un decennio degli anni 90 dove la contaminazione con le culture per esempio nordafricane orientali è una contaminazione molto forte un'ibridazione quasi ecco con l'attacco alle torri gemelle come dire questa contaminazione culturale dei consumi si interrompe si interrompe l'occidente si chiude perché ha paura non comprende come dire questo comportamento voi pensate all'indomani dell'attacco delle torri gemelle che cosa succede vi invito a leggere lo trovate ancora in rete un bellissimo articolo del professor Jean-Paul Fitoussi che lui scrive proprio all'indomani dell'attacco della tragedia lui scrive un articolo intitolato l'economia violentata l'economia è fantastico e lui in quell'articolo dice esattamente lo stiamo ancora vivendo è stato come dire un previgente nel senso lui dice è successo qualcosa all'umanità che difficilmente potrà essere come dire come una ferita profonda che difficilmente potrà come dire essere in qualche modo recuperata risarcita nel tempo questa ferita avrà modo poi di guarire nel tempo ancora oggi viviamo di questo terrore come dire di questo ISIS piuttosto che altre cose quindi la contaminazione culturale soprattutto con l'ISLASM si ferma e questa contaminazione pian pianino pian pianino sta riprendendo ma come dire capite bene ogni tanto subisce ulteriori arresti visto gli ultimi fatti avvenuti in questi ultimi anni l'ecologismo e anche qui l'ecologismo come dire è tendenza ormai di fondo in rete si sviluppa come dire un movimento particolarmente importante qui se ne potrebbe parlare ma l'ecologismo in tutte le sue forme anche nelle forme come dire prima stavo parlando di veganesimo piuttosto che pensate a tutte le teorie steineriane che Rudolf Steiner fondatore dell'antroposofia e così via quindi come si sviluppano attraverso la rete una volta non ne conosceva nessuno oggi anche se il fenomeno è interessante dal nostro punto di vista economisti lo sapete perché recentemente ho fatto una tesi su il mercato il settore dei prodotti alimentari vegan e cos'è che abbiamo scoperto abbiamo scoperto in realtà che i volumi di consumo sono assai più elevati rispetto a coloro che mediamente dicono di essere vegani cioè avere un'alimentazione e soprattutto una filosofia di vita vegana quindi vuol dire anche che tanta parte del consumo è fatto da persone che non dichiarano di essere vegani etnocentrismo dei consumi questo vi interessa in particolar modo perché perché attenzione la rete la rete è di per sé qualcosa che mette in connessione tutto il mondo quindi c'è una sorta di mondializzazione una sorta si dice si è usato questo termine spesso di globalizzazione ecco attenzione l'economia oggi allo stesso tempo globale ma anche allo stesso tempo locale quindi viene fuori questo termine di globalizzazione per cui l'etnocentrismo vuol dire che attraverso la rete si possono valorizzare ecco i prodotti del luogo quello che sempre Moraci direbbe i prodotti del genius loci quindi questo diventa secondo me particolarmente interessante per voi poi vedremo magari alcuni aspetti anche legati a questo concetto virtual good consumer attenzione questo è un fenomeno che siamo andati a rilevare già qualche anno fa ma che timidamente appare vuol dire che le nuove generazioni tendono a sostituire come dire i consumi dal reale al virtuale oggi due giovani tredicenni quattordicenni che si mettono insieme fidanzatino e fidanzatina come dire lui non regala a lei più una rosa fisica ma magari gli regala una cartolina gli invia una cartolina un'immagine di una rosa che magari ha pagato in internet e quindi sostituisce regalo fisico con il regalo virtuale infine animosità del consumo cosa vuol dire vuol dire che diventa estremamente importante soprattutto in rete comprendere come alcuni oggetti cioè come l'origine il paese di origine vedete country of origin il paese di origine di alcuni oggetti sia in qualche modo percepito come superiore come cosa bella prendete tutto il fashion il vostro mondo dell'artigianato italiano che è molto apprezzato in tutto il mondo e come dire invece in certi casi alcuni prodotti realizzati in certi paesi come dire c'è un effetto noi si dice in gergo tecnico c'è un effetto prisma di tipo riducente perché se il prodotto proviene dalla Cina piuttosto che da altri paesi ecco io lo percepisco come di minore qualità rispetto ad un altro non so rispetto a un prodotto tecnico che viene dalla Germania ecco per quanto riguarda la tecnica la meccanica e così via quindi attenzione all'animosità del consumo oggi anche questo diventa un fenomeno interessante da leggere ma allora il concetto è ma questi consumatori chi sono cosa fanno non abbiamo il tempo per come dire analizzarli in profondità però in chi si occupa della rete normalmente fa riferimento a questi cluster a questi mega cluster vedete di consumatori che sono stati studiati dal più institute research il più institute research che a un certo punto come dire studia questi cluster questi questi gruppi sociali e come dire intitola questa questa ricerca questo studio vedete sotto in nota millennials in adulthood che cosa dice vedete suddivide la popolazione mondiale in cluster che vanno da un punto di vista generazionale tra guardate l'asse in basso che è quella dell'età l'asse in basso che dice attenzione si va da 0 anni a 19 anni con la generazione X quindi sono quella la generazione X detta anche generazione Z che sono quelli forse sono i consumatori che sono più criptici perché hanno alcune caratteristiche che come dire fanno sì che il loro consumo tra l'altro sono consumatori molto attivi in rete peraltro comunque su questi ci sarebbe da parlare abbastanza ma poi ci sono i 19 anni che vanno fino a 34 sono i veri e propri millennials detta anche generazione Y poi abbiamo la generazione X i baby boomers se ho già fatto outing ho già detto che sono lì dentro che sono vedete anche la categoria il cluster più numeroso e poi abbiamo i silent generation su questi guardate si potrebbe fare una lezione soltanto su questa slide per dirvi che cosa dal punto di vista delle imprese vostro un'attenzione particolare la dovete rivolgere ai primi due cluster perché perché se è vero che in Italia noi baby boomers siamo tanti perché l'Italia è un paese anziano a livello mondo però i primi due la generazione Y e la generazione Z cubano più o meno oltre 2 miliardi e 100 milioni di persone e questi saranno i vostri futuri consumatori quindi attenzione perché saranno futuri consumatori guardate abbiamo fatto una ricerca ma proprio recentissima freschissima di qualche l'abbiamo consegnata come dire qualche la settimana scorsa qualche giorno fa in questa ricerca abbiamo fatto una ricerca per un produttore di cover sapete le cover per l'iPhone per il telefono cover di lusso pensate questo produttore metterà sul mercato queste cover a circa fatte ovviamente in maniera artigianale con pellame particolarmente il cui costo andrà dalle 600 euro in su una cover quindi costa quanto per intendersi un telefono quanto un iPhone ecco nello studio che abbiamo fatto e quindi ovviamente il target di riferimento un target alto spendente come si suol dire pensate che cosa abbiamo riscontrato a livello mondo a livello mondo soprattutto Stati Uniti piuttosto che Asia abbiamo riscontrato tanti appartenenti alla generazione Y e Z che hanno la capacità di spendere questi importi cioè che sono come dire degli incursi sono dei consumatori che fanno incursioni in prodotti di lusso quindi questo è particolarmente interessante perché sembra che il prodotto di lusso come dire potrebbe sembrare che sia acquistabile soltanto dai baby boomers o chi ha già un reddito in realtà questi sono foraggiati o dai nonni o dai genitori che sono appunto baby boomers i quali come dire danno grandi oggi disponibilità di spese ai propri figli poi sui figli anche qui c'è tutto un mondo che è molto molto interessante ma quello che volevo rappresentarvi anche e soprattutto andare a comprendere questo consumatore come si comporta allora noi distinguiamo un comportamento pre-rete da un comportamento post-rete ora vado molto veloce e forse magari qualcuno avrà difficoltà anche a seguirmi forse la mia esposizione è un po' troppo veloce ma cerco di essere molto chiaro allora nel concetto vedete qui c'è un concetto quindi il consumer behavior online cioè il comportamento del consumatore online e proviamo a leggere tutto quello che vi sto dicendo da due punti di vista dal punto di vista del consumatore e dal punto di vista vostro cioè dell'impresa dal punto di vista del consumatore in letteratura noi diciamo che cosa che prima prima dell'era digitale quindi in Italia prima del 95 come abbiamo visto e qui entriamo un po' negli aspetti con un pochino della consapevolezza che più vi interessano prima del 95 cosa succedeva succedeva questo noi come consumatori una volta ricevuto uno stimolo quindi lo stimolo vuol dire si vedeva una pubblicità ci si recava vedete lo stimolo qui nell'immagine ci si recava sul punto vendita sullo shelf sullo scaffale e dopo un processo decisionale si acquistava il bene questo bene dopo un processo decisionale che viene chiamato tecnicamente vedete in giallo qua first moment of truth cioè primo momento della verità questo concetto in letteratura lo introduce pensate per la prima volta un autore un professore della scuola scandinava di marketing che si chiama Richard Norman con due n ecco questo nome insegnatevelo perché chi di voi ha l'occasione di leggere qualche cosa soprattutto i primi testi di Norman veramente sono illuminanti Richard Norman detto questo si riceveva lo stimolo si andava all'interno del negozio si iniziava un processo decisionale più o meno lungo si portava a compimento questo processo decisionale con l'atto dell'acquisto e poi si portava il bene a casa e si consumava quindi quando vedete la casetta si portava a casa eravamo in presenza dello smoth cioè second moment of truth secondo momento della verità il momento della verità è un momento cioè di interazione tra noi consumatori e in questo caso nel first moment of truth con il personale di vendita nel negozio e poi secondo momento della verità noi e il prodotto comprato e quindi che dava vita a quella che noi definiremo oggi l'esperienza di consumo bene se questo è chiaro ecco con l'entrata l'arrivo della rete con l'arrivo delle tecnologie ICT e quindi del web che cosa succede? succede una roba abbastanza interessante perché? perché oggi tutto quello che si è visto prima ecco che subisce che cosa? una fase pre cioè prima di andare sullo shelf first moment of truth e poi second moment noi tutti noi come consumatori svolgiamo come dire un percorso nel quello che viene definito da Jim Lecinski vedete che cosa? lo ZIMOT zero moment of truth cioè il momento zero della verità perché una volta che riceviamo lo stimolo vedete andiamo scusate sono andato oltre ecco è molto sensibile il mio mouse allora vedete una volta raggiunto lo stimolo avuto ricevuto lo stimolo che cosa facciamo? andiamo entriamo dentro la parte della rete andiamo a ricercare le informazioni search ricerchiamo facciamo delle query dopodiché facciamo che cosa? andiamo a leggere delle recensioni read reviews non contenti andiamo a guardare anche video watch videos e poi ancora nell'ultima fase andiamo ask your network cioè andiamo a trovare delle conferme o delle informazioni presso la nostra rete sociale il nostro gruppo di riferimento il nostro gruppo di amici in whatsapp e così via dopodiché andiamo sullo shelf ecco fate conto che noi abbiamo fatto una ricerca questa è una ricerca che risale a tre anni fa con DOXA Milano DOXA dovete sapere il più importante istituto di ricerca di marketing italiano che è nostro tra l'altro partner del laboratorio e che cosa ci ha detto DOXA cos'è che abbiamo fatto insieme a DOXA siamo andati in questa ricerca abbiamo visto che cosa? nel settore pensate dei bianchi cioè elettrodomestici frigoriferi e così via ci dice la ricerca ci dice che cosa? che oltre il 60% dei casi il nostro consumatore esegue il processo decisionale in rete cioè in questo momento zero della verità quindi quando lui arriva in negozio sullo shelf ha già deciso due cose ha già deciso il brand la marca che deve comprare e ha già deciso anche il modello capite bene se nel 60% dei casi ha definito già si è convinto di comprare una cosa un grande come dire una grande convinzione ovviamente rimane poco spazio per il venditore per modificare questa convinzione sul punto vendita lì si gioca sempre più capite bene quello che noi si chiama come dire la store loyalty cioè la relazione fiduciaria con il venditore che ancora oggi è importante però viene messa in crisi perché quando si arriva sul negozio abbiamo già svolto tutta questa fase allora siccome noi facciamo tutti noi come consumatori questo percorso provate e poi non ci fermiamo lì attenzione vado oltre e poi ritorno indietro così la leggiamo dal vostro punto di vista ma però non contenti quando andiamo sullo shelf se ci andiamo sul negozio fisico perché spesso volentieri si compra anche online che cosa succede? succede una roba di questo tipo cioè andiamo compriamo l'oggetto torniamo a casa vedete nell'immagine home torniamo a casa ma non contenti andiamo a sperimentare lo yumot questo è il professor grandi che introduce questo concetto cioè l'ultimate moment of truth cioè l'ultimo momento della verità cosa vuol dire ultimo momento? abbiamo deciso attraverso la rete l'abbiamo comprato magari anche attraverso la rete e poi siamo andati a dire ok quanto siamo soddisfatti e nascono quelle che sono le piattaforme qui ce n'è una in parte ma anzi due una per i viaggi TripAdvisor tutti noi conosciamo TripAdvisor dove noi abbiamo sperimentato magari un albergo o un ristorante così andiamo e mettiamo la nostra recensione le nostre stelline così come le andiamo a mettere sulla piattaforma Trustpilot Trustpilot è una piattaforma come ce ne sono tante di come dire brand reputation e quindi diamo una reputazione al prodotto cioè diamo una valutazione al prodotto che abbiamo acquistato ecco questo già introduce un ulteriore elemento che nel marketing è fondamentale viviamo un'era come dire di un'economia reputazionale dove il concetto di reputazione è fondamentale però ci ho detto capite quanto lavoriamo in rete andiamo prima a esplorare poi compriamo poi ritorniamo in rete per dire quanto siamo contenti ma se andiamo se poi andiamo a comprare fisicamente perché e poi ritorno davvero indietro vi faccio leggere la stessa cosa dal vostro punto di vista perché in realtà il nostro consumatore può avere due comportamenti o un comportamento di tipo ROPO cioè di tipo lineare nel senso che ROPO è un acronimo che sta per Research Online and Purchase Offline quindi ricerco online e poi vado a comprare fisicamente però ripeto arrivo sul punto vendita dicendo o voglio questo di questa marca di questa cosa perché ho già le idee molto chiare su cosa comprerò ma sempre più spesso soprattutto le giovani generazioni Z e Y cos'è che fanno in rete hanno un comportamento di tipo TOFO TOFO sta per Try Offline and Purchase Online cioè vanno provano l'oggetto pensare provo una sneakers mi sta bene mi piace non la compro il negozio torno sulla piattaforma e la compro online indipendentemente da questo e qui noi ovviamente nel mondo marketing abbiamo elaborato tutta una serie di teorie come dire abbiamo studiato su questi due fenomeni e addirittura negli Stati Uniti già sono andati come dire anche molto ai rifari per il comportamento soprattutto TOFO e così via se ci sarà occasione poi vi racconterò anche queste cose ma ritorno indietro alla cosa più interessante per voi proviamo a leggere ora questa slide questa immagine guardandola dal punto di vista dell'impresa se noi consumatori pensate ricerchiamo le informazioni voi cos'è che dovete fare le imprese cos'è che devono fare farsi trovare quindi farsi trovare vuol dire fare tecnicamente in rete quello che si dice essere il search marketing search marketing quando parlo di search marketing vi do due nozioni ma due proprio due search marketing che roba è vuol dire ottimizzare diciamo essere bravi ad uscire nella possibilmente nella prima pagina della cosiddetta SERP cioè che è la prima pagina di ricerca se io in questo momento digito ad esempio trafano elettrico ovviamente il rivenditore la marca che mi viene per prima ovviamente sarò come dire spinto ad aprire quel link per visitare certamente non so quanti di voi andranno alla terza la quarta la quinta pagina la seconda forse ma non sempre la seconda del tipo di bene ma se non siamo nella prima è come stare sulla fifth avenue a new york passano milioni di persone di fronte e nessuno entra nel vostro negozio cioè vuol dire non essere trovati per cui bisogna per farsi trovare fare un ottimo SEO search engine optimization optimization vuol dire lavorare tecnicamente su degli aspetti che fanno sì appunto no perché il crawler poi il crawler di google come dire analizza siti internet c'è tutto un meccanismo che ovviamente magari vi invito a partecipare a qualche webinar ma più che webinar in questo caso per comprendere bene occorrerebbe un piccolo corso di SEO e ecco in questo caso come dire no siamo ci rendiamo con un buon SEO visibili alla rete bene oppure attraverso SEM search engine marketing o cioè attraverso quelle che sono le campagne attraverso google la piattaforma google ads oddio parlo di google ads perché perché ovviamente l'ho detto prima essendo un in qualche modo un monopolista la stragrande maggioranza del traffico passa da google quindi io devo lavorare necessariamente sulla piattaforma google poi chi vuol lavorare su bing piuttosto che su altri va benissimo lo stesso non solo devo farmi trovare ma se io leggo le recensioni come consumatore io dovrò come impresa scrivere tanto 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 quindi io devo far trovare tanta parte scritta devo produrre video devo gestire le relazioni sociali nei network che poi andrò a scegliere nei social network quindi capite bene devo fare tante cose nuove diverse da quelle che ho fatto finora perché magari io sono io conosco tanti artigiani come dire sono magari molto bravo a fare questo oggetto però sono un pochino meno bravo a fare tutte queste altre cose perché queste altre cose implicano che cosa implicano consapevolezza e sapere digitale cosa che in questo momento non abbiamo capito allora fatto questo tipo di riflessione dico attenzione bisogna fare tante cose nuove un po' inesplorate se le facciamo bene possiamo avere speranza perché non è detto possiamo avere speranza di avere successo e avete e allora vado a come dire comprendere farvi comprendere cos'è quello che l'impresa può fare in rete perché questo è il tema tutti quanti dicono ah beh in rete che cosa faccio vendo e-commerce non c'è niente di più sbagliato a pensare che si possa vendere e basta in realtà guardate i modelli di business i modelli di business sono tanti vedete qui ve ne ho portati alcuni poi vi permetterò mi permetterò anche di darvi una lettura che mi riguarda tra l'altro è il libro di testo che io uso all'università ma è scritto per neofiti quindi in maniera tecnica semplice non ci sono tecnicalità importanti per cui se durante le vacanze di Natale volete farvi una lettura un approfondimento quindi potrebbe essere così come come dire vi sto consigliando anche tanti altri testi libri di qualche amico come dire esperto come dire nei vari temi del marketing digitale modelli di business allora i modelli di business ripeto sono tanti sono fascinantissimi perché sono sempre di nuovi ma noi possiamo ritrovare ad esempio quelli basati sulla vendita no di cioè il business si basa vedete sulla vendita di advertising quindi sulla vendita di pubblicità si chiamano modelli advertising business based quindi che cosa qui ci sono due esempi andatele a vedere mi interessa forse di più the hunger site cioè il sito degli affamati il sito degli affamati un'esperienza perlomeno nella sua fase iniziale era un sito noi diciamo in gergo tecnico un killer site cioè un sito killer cosa sono i siti killer sono quei siti dove il navigatore va sempre cioè va a visitare frequentemente almeno una volta al giorno tutti i giorni perché come dire è come come dire è un forte attrattore cosa succedeva in the hunger site ve lo racconto molto velocemente accadeva questo voi entravate in the hunger site punto com se immaginate di vedere la mappa del mondo di tutto il mondo e ovviamente c'era tutta la descrizione di chi era the hunger site the hunger site che tradotto vuol dire sito degli affamati e ogni pochino ogni tanto ogni qualche secondo si illuminava un paese e veniva la scritta fuori in questo paese in questo momento sta morendo un bambino di fame e uno ci rimaneva male dice tu puoi fare la tua buona azione quotidiana è sufficiente che tu clicchi dentro un bottone sotto questa mappa un bottone clicchi su questa cosa e tu ti esponga ti esponga per pochi secondi alla pubblicità di come dire i donatori quindi la piatta pensate la piattaforma che è una piattaforma come dire di raccolta fondi in questo caso riso cibo per daddonare bambini bisognosi quindi bambini affamati vengono come dire in questo caso la piattaforma l'organizzatore hub attrae come dire i cybernauti i quali si espongono a per qualche istante qualche secondo ad una pubblicità si cliccava si entrava dentro in una paginata dove c'erano evidentemente soltanto imprese americane sconosciutissime questi donatori tutti questi donavano ogni volta per ogni clic una tazza di riso ai bambini questo modello di business fondato come dire sulla vendita di pubblicità non ha funzionato così tanto l'hanno c'è ancora esiste ancora l'hanno dovuto ibridare perché la cosa interessante è l'ibridazione dei modelli di business con un e-commerce adesso se ci andate sopra vendono anche cappellini magliette e così via sempre di the hunger site quindi vengono merchandising oltre a fare operazioni come dire attività di tipo caritatevole hub page andatela a vederla se mi metto a spiegare anche questa però ve l'ho messo lì a post andate a vedere la vendita di pubblicità una grande piattaforma americana e-commerce business qui si vende basato sulla vendita di qualcosa e la vendita di qualcosa può essere o ad altre imprese oppure a persone come dire B2C B2C business to consumer nell'ambito del business to business ho messo forse il primo attore a livello mondiale di questa roba qua che Alibaba vi do Alibaba oggi come dire è una grande piattaforma di e-commerce B2B ma anche ha aperto la sezione B2C e per il B2B pensate Cuba qualcosa come oltre 480 miliardi di dollari di vendita tanto per darvi un'idea mondo Cina la mentre il B2C come dire il B2C può essere o in forma di direct seller come potreste essere voi per esempio vedete qui l'anificio B l'anificio B è una piccola impresa pratese che produce sciarpe e coperte di lana anche molto belle andatelo a vedere l'anificio B cosa fa produce e vende online i propri prodotti quelli che produce all'interno Best Buy invece è un rivenditore per esempio è una sorta di rivenditore di prodotti di elettronica è il più grande rivenditore di elettronica americana e poi Amazon tutti noi conosciamo Amazon che è un marketplace quindi attenzione anche qui dentro però anche questo è un poi abbiamo un B2E Business to Employee dove dentro ci sono come dire coloro sempre siamo nell'e-commerce dove vendono che cosa offrono lavoro e comprano lavoro quindi clicca lavoro stepstone e poi abbiamo il C2C C2C che è consumer to consumer cioè si vendono cose a privati e per esempio BlaBlaCar che tutti voi immagino o Airbnb come dire appartengono a questa categoria dove un privato può mettere a disposizione una stanza della propria casa oppure affittare un appartamento intero e così via poi abbiamo i come dire gli editori al Business Based vedete che possono essere come dire specialisti o generalisti il Sole 24 Ore è uno specialista per il genere è un generalista ma questo per dirvi no quanti possono e poi abbiamo quelli che oggi che sono i cosiddetti community o wiki business based qui questi danno vita a quella che noi oggi definiamo la sharing economy cioè l'economia condivisa attenzione ci sono tanti testi sull'economia condivisa ve ne consiglio uno l'ultimo di Jeremy Rifkin sempre durante queste vacanze natalizie magari ve lo fate regalare lo mettete sotto l'albero di Natale perché come dire Jeremy Rifkin chi è è un autore è un presidente di un osservatorio sulle nuove tecnologie scrive è molto prolifico scrive tanto uno degli ultimi forse l'ultimo se non vado errato testo che scrive è l'economia a costo marginale zero economia a costo marginale zero e parla appunto dell'economia condivisa parla dell'economia come dire della sharing economy e parte dal paradigma che l'economia del futuro non sarà più come l'economia che stiamo conosce che abbiamo conosciuto fino adesso ma è un'economia differente non più basata sulla domanda e l'offerta e lo scambio di prodotti con un prezzo ma sarà sempre più fondata sullo scambio di relazioni fiduciari ok poi ve lo leggete ve lo leggete interessantissimo si legge molto bene ma questi modelli di business in realtà oggi se li andiamo a osservare sono sempre più ibridati questi sono puri pure business model ma i modelli puri fanno sempre più difficoltà a competere hanno bisogno di ibridarsi fra loro e allora nascono i cosiddetti cross-breeded cioè i modelli di business ibridati vado velocemente allora il tema è però visto che si parla di commerce tutti quanti comunque perlomeno le imprese molti vogliono vendere oggetti o servizi sulla rete allora abbiamo pensato di darvi qualche spunto di riflessione su come poter organizzare un e-commerce un e-commerce per organizzare un e-commerce come dire occorre articolare in qualche modo un progetto e un progetto di commerce innanzitutto potrebbe essere come dire un'articolazione del genere fare un e-commerce vuol dire attenzione lo dico subito non focalizzarsi esclusivamente sull'acquisto della piattaforma che piattaforma compro che CMS CMS è un acronimo che sta per content management system allora al laboratorio arrivano tantissimi come dire imprese tantissimi artigiani come voi eccetera che ci chiedono ma mi è stato fatto un preventivo mi è stato fatto come dire la mia web agency mi ha offerto ad esempio un CMS in WordPress in Wix oppure in Magento ora dico una cosa Magento difficile perché a costi molto elevati o in non so per dire prestashop e così via ci sono tantissime piattaforme tantissime piattaforme CMS attenzione non è quello il problema il problema quando si fa e-commerce è farlo indipendentemente poi ovviamente c'è la piattaforma più o meno performante deve essere fatto bene ma bisogna farlo con Salis cioè bisogna pensare che quando abbiamo comprato una piattaforma di e-commerce uno shop è come dire ho comprato una penna e quando si compra una penna la domanda è hai comprato una penna ma sai scrivere hai scritto qualche volta dice no ora devi apprendere la lingua cioè comprare la penna ci vuole un attimo basta investire qualche denaro pochi centesimi sapere scrivere vuol dire investire tanto tempo e tanto sapere quindi come sai scrivere perché bisogna scrivere sulla rete allora capite bene fare un progetto di e-commerce vuol dire prima di tutto vedete questa freccia grande nel centro comprendere come il nostro canale digitale si va ad integrare con lo shop fisico se abbiamo uno shop fisico cioè l'integrazione fra i canali lo shop fisico ora vi faccio degli esempi è funzionale quindi il canale il canale tradizionale è funzionale a questo o questo è funzionale a quest'altro oppure attenzione sono due canali alternativi e concorrenti allora ho detto un po' di cose che possono risultare criptiche lo so ma le spiego oggi un'impresa che affronta il tema dell'e-commerce si deve porre in qualche modo una domanda ma agirò in futuro in un'ottica di multicanalità o io rimarrò comunque un monocanale la mia vendita perché io posso scusate il mio cane che adesso si è svegliato era qui buono buono scusate solo un secondo mi prendete Monti scusate l'interruzione ma è molto tranquillo ma ve lo vorrei anche mostrare è un adesso l'ho mandato giù è un tranquillo Danio il bello della diretta il bello della diretta il bello che dovete sapere che sono mi hanno appioppato il cane ho chiesto giù prima tenetemelo perché io sono al piano di sopra della mia casa tenetelo per bene perché adesso ho un seminario mi è arrivato tranquillamente su quindi si è messo sulla mia poltrona del mio studio e stava tranquillo in genere sta tranquillo ora si vede ha sentito qualcuno e incomincia scusate quindi recupero questi minuti perché vi devo raccontare tante cose allora dicevo il tema è un po' questo il tema è la multicanalità o monocanalità perché io posso avere uno shop fisico e poi magari creare un bel sito internet che è un sito in qualche modo è un biglietto da visita è come se fosse come dire un catalogo dei miei prodotti però non faccio e-commerce ma nel momento in cui penso di fare e-commerce devo capire come integrare i due canali esemplifico così ci capiamo meglio fino a un po' di anni fa Gucci ad esempio tutti noi conosciamo Gucci grande azienda vendeva attraverso i propri negozi diretti pensate attraverso le proprie boutique poi con l'avvento di internet e l'e-commerce eccetera ha deciso strategicamente di fare che cosa di affidare ad un soggetto terzo poi a parte aperta chiusa parentesi stava a Svizzera ma insomma la gestione del canale dello shop online Gucci ha un soggetto diverso questo voleva dire da un punto di vista strategico attuare quello che vi stavo dicendo prima cioè il creare un canale affidandolo a degli specialisti alternativo e concorrente a quello fisico perché questi guadagnavano tanto più Gucci online vendevano quando Gucci si è reso conto di questa roba ha detto aspetta un po' lo riprendo internamente lo gestisco internamente e si è portato e ha creato quello che si chiama oggi Gucci Digital tra l'altro alcuni nostri studenti del master perché noi facciamo un master in marketing digitale anche estracurricolare peraltro però come dire ha creato una struttura digitale che va a gestire un canale che a quel punto diventa un canale sinergico al punto vendita e non concorrente per cui ecco attenzione quando si parla di e-commerce bisogna capire che tipo di inter vi faccio un altro esempio per capire prendete l'esempio di Luisa Via Roma dice ora però lei ci prende ora dopo vi faccio gli esempi e vi riguardano come dire di imprese di Luisa Via Roma Luisa Via Roma guardate Luisa Via Roma tutti voi la conoscete più o meno insomma penso a Firenze sta il negozio è in Via Roma dietro al Duomo Santa Maria del Fiore a Firenze in Via Roma questo negozio è un negozio storico pensate i dati Luisa Via Roma Luisa Via Roma è uno sponsor un altro sponsor del nostro laboratorio Luisa Via Roma fattura quel negozio fattura circa 8 milioni di euro l'anno il canale digitale 150 milioni oggi vi posso dire che Luisa Via Roma continuerà ad avere quel negozio storico quello identifica come dire come luogo perché è nato lì eccetera ma se entrate dentro il negozio non è che ci trovate tanti abiti eccetera c'è qualche abito ovviamente se poi magari avete la fortuna di trovare la taglia e il modello lo comprate pure il negozio ma ce ne sono pochissimi prodotti nel negozio l'assortimento è minimo cos'è che trovate da Luisa Via Roma provate a entrarci dei grandi schermi dei grandi schermi dove sui quali come dire voi potete andare nell'e-commerce è come stare da casa come dire andare nell'e-commerce a scegliervi il vostro prodotto online sarete assistiti da una signorina come dire appositamente formata per guidarvi nella scelta e dopodiché quando direte sì mi interessa questo se ce l'abbiamo lo prova se no altrimenti non ci sono problemi glielo portiamo a casa o mandiamo come dire via corriere dove abita negli Stati Uniti piuttosto che se non gli va bene ovviamente ce lo rimanda indietro e così via e noi glielo cambiamo anche cinque volte bene questo è Luisa Via Roma i dati sono questi quindi pensate che cosa vuol dire vuol dire che oggi questo negozio fisico è a servizio di questo negozio virtuale è questo che compete 150 milioni anzi oltre 150 milioni di euro di fatturato quindi queste dinamiche sono particolarmente interessanti ma allora per fare un progetto di e-commerce una volta stabilito qual è la relazione col mio shop fisico con il mio canale fisico se vado in un'ottica di ripeto multicanalità o monocanalità io devo poi incominciare a lavorare sulla seosm che vi citavo ora essere trovato e lo devo fare bene perché attenzione perché dico bene perché poi in realtà succede questo che non è detto che il vostro e-commerce abbia successo perché magari il vostro prodotto può anche non piacere può anche se ho visto la mia esperienza è guardate in rete si vende qualunque cosa bella brutta che sia si vende di tutto di tutto quindi in genere si vende di tutto l'importante bisogna essere bravi cioè tecnicamente il sito è internet tutto quello che facciamo che ora lo vediamo deve essere fatto bene perché se è fatto male nessuno ci troverà allora quindi fare attività seo e sem fare attività di email marketing cosa vuol dire vuol dire incominciare a tenere delle relazioni con il mercato e lo si fa usando le piattaforme di email marketing non mandando le email attraverso come dire il google mail piuttosto assolutamente no cioè bisogna farlo in maniera organizzata perché le piattaforme ci danno tutta una serie di indicatori di gestione di queste piattaforme andiamo a segmentare il nostro mercato cioè indirizzare questa comunicazione verso soggetti specifici e quindi ci danno informazioni di quanto sono state aperte quanto sono state lette quanto poi come dire il nostro navigatore è atterrato sulle pagine di atterraggio e così via dobbiamo avere informazioni informazioni dobbiamo saper usare queste piattaforme ecco la consapevolezza potete scegliere MailChimp MailApp ce ne sono di complessissime ma queste due sono già più che sufficienti poi dobbiamo produrre dei video perché noi oggi viviamo in un'economia visuale quindi le persone leggono poco ma guardano tanto e poi bisogna stare sui social perché i social perché anche questo sono uno strumento attenzione non di comunicazione ma di relazione sui social voi terrete le relazioni con i vostri fan con i vostri sostenuti con i vostri clienti perché io difficilmente non vi conosco ma difficilmente verrò a seguire il vostro canale social se non vi conosco ok o se come dire non ho sperimentato in qualche modo il vostro prodotto allora cos'è che dobbiamo fare cos'è che dobbiamo fare dobbiamo organizzare un e-commerce incominciando a pensare ad alcune cose tipo come gestire l'assortimento per esempio che assortimento attenzione la gestione del servizio assortimentale cosa inseriscono è un fattore critico di successo o meno guardate in questi giorni stiamo lavorando su un portale di e-commerce per il settore ittico quindi per un'iniziativa un portale di vendita di pesce online ormai mi sono fatto una cultura su questa roba qua ci abbiamo fatto anche una tesi di laurea sopra quindi abbiamo approfondito e vi posso assicurare anche in questo settore sembra abbastanza banale dice poi alla fine insomma i pesci sono pesci non è assolutamente vero bisogna lavorare in un'ottica di gestione e come dire rappresentazione perché ciò che voi offrite poi viene percepito dalla cybernauta dal consumatore in un certo modo piuttosto che un altro cioè venite percepiti a seconda di cosa e come mettete sulla rete come specialisti o generalisti del vostro prodotto quindi tutto questo ha un senso quindi e poi bisogna capire come bene come posizionare il vostro prodotto quindi la gestione d'assortimento delle offerte se fate le offerte diventa fondamentale per l'e-commerce la gestione semplice amministrativa dei pagamenti deve essere tutto automatizzata se no ci perdete la testa dietro alla fatturazione quindi creare quello che noi si dicono dei connettori di marketing automation cioè grande automazione gestione della performance della piattaforma che cosa vuol dire gestione della piattaforma della performance che voi quando create un sito internet dovete comprendere bene come sta funzionando la piattaforma chi atterra sul vostro sito da dove proviene che tipo di pubblico è se uomo o donna che tipo di profilo ha se è come dire uno che è interessato una cosa e google vi dice tutto questo però bisogna usare gli strumenti per esempio gli strumenti che google per questo ti dice guarda ti mette a disposizione tutto quello che hai di necessario quello che ti serve per gestire bene il tuo e-commerce capite e ti mette a disposizione google analytics però sono pochi gli imprenditori che sanno usare google analytics basta un piccolo corso di base non occorre essere dei data analyst però sapere quante persone atterrano da dove atterrano da dove arrivano attraverso quali fonti arrivano e cosa fanno cosa visitano cosa guardano cosa mettono nel carrello magari questo diventa fondamentale ebbene una ricerca che abbiamo condotto proprio durante il lockdown e che abbiamo pubblicato recentissimamente dieci giorni fa anche alla presenza della regione toscana sul livello di adozione delle tecnologie web da parte delle imprese toscane ci dice una cosa molto molto chiara che per esempio le analitiche sono pochissime le imprese che le sanno usare spesso e volentieri dice sono detenute dall'agenzia che fa la consulenza ma non sono comprese capite dall'imprenditore deve prendere delle decisioni ora è vero che voi state pensando in questo momento Berti però noi dobbiamo lavorare dobbiamo fare delle cose ok ora io farò dei casi in cui si va a comprendere come l'imprenditore abbia fatto un minimo di sforzo per arrivare a fare delle cose e ci arrivo tra poco quindi gestione performance marketing della piattaforma quindi comprendere come sta funzionando il vostro e-commerce la gestione della delivery io non posso stare dietro a capire questi pacchi se partono o non partono se il corriere li ha consegnati devo qui anche qui gestire una complessità ci sono dei software che posso legare connettere al mio e-commerce ne suggerisco uno che è fiorentino K pla Q come la lettera Q dell'alfabeto andatelo a vedere è fantastico è fantastico quanto costa? costa niente niente però vi risolve come dire veramente vi risolve tante cose perché perché il consumatore il cliente che non riceve il prodotto dal corriere vuol sapere a che punto è se è stato spedito o non spedito non vi telefona ma va da K per esempio a comprendere queste cose e poi la gestione dei reclami la gestione la soddisfazione eccetera quindi mi raccomando non riducete il vostro progetto internet e-commerce soltanto ad un problema di scelta della piattaforma cioè di una piattaforma di un tipo WordPress si diceva con WooCommerce perché la donna di WordPress è WooCommerce e così via mi raccomando devo andare oltre andiamo ai casi andiamo ai casi allora io ho selezionato ne avrei potuti selezionare tanti vi dico la verità però li ho selezionati sulla base un po' anche perché mi piacevano un criterio anche di conoscenza di conoscenza e vado a rappresentarli allora una è una chicca in assoluto chicca nel senso una novità una cosa recentissima è una giovane donna una giovane artigiana il sito ovviamente ora lo vedrete ci potete andare in diretta mentre io ve lo spiego a vederlo questa giovane artigiana cosa fa? ha iniziato cerca un annetto fa la sua attività in maniera forse un pochino per scherzo nel senso va bene sa disegnare molto bene fa delle cose molto molto carine disegni molto carini vabbè dice provo la mia attività provo a creare un sito ma anche senza nemmeno troppe pretese vi posso dire bene oggi questo sito che è un sito di Eleanor Marianne andatela a vedere qui vedete Eleanor Marianne questa è l'home page è un sito che è altamente performante allora diceva ce lo dice Berti ma a noi chi ce lo dice no io vi ho messo come dire vedete in alto Eleanor Marianne attenzione altamente performante perché vi ho messo anche noi seguiamo questi siti seguiamo in che senso anche senza avere le analitiche cioè avere Google Analytics attaccato al sito quindi avere quelle informazioni di cui vi dicevo prima abbiamo uno strumento all'interno del laboratorio che appunto si abbraccia che ci consente di vedere i volumi di traffico dei vari siti per cui ecco qua vedete il dato leggiamo soltanto un dato siamo a dicembre mille visite un K mille visite vedete le visite sull'ultimo mese in questo caso le mille visite di dicembre mille visite oggi si viaggia a mille visite al giorno quindi oggi siamo più o meno a più o meno siamo oggi siamo l'undici pensate pensate mille visite lo sapete la cosa particolare qual è è che il tasso di conversione di questi mille visitatori è intorno al 4% è una percentuale altissima 40 cioè su mille comprano dall'e-commerce se voi andate a vedere adesso dovrebbe avere in rete credo l'abbia messo ma se no io l'ho sentita telefonicamente ieri l'altro per esempio fa un'offerta natalizia su dei box lei che cosa fa produce carta disegnata da lei produce quaderni produce ecco una bellissima agenda questa agenda sta andando tantissimo tutti richiedono l'agenda di Elinor Marianne per fare le gali nel Natale le cartolerie le stanno tutti richiedendo ha problemi di crescita ha problemi di crescita perché sta prendendo le persone a fare pacchi perché non sa come 40 pacchi ogni giorno come dire che devono partire e capite bene allora che si tratta dice ma qual è il successo il successo è che ha lavorato molto bene sul sito ha appreso come dire alcune tecniche scusate anche il telefono scusate il disturbo e dicevo in questo caso si tratta di avere che cosa lavorare bene sulla SEO ha lavorato molto sui social andate a vedere sui social per esempio ha lavorato così bene che ha circa 14.000 follower per esempio su Instagram ha lavorato tramite delle pubbliche relazioni cioè ha lavorato tramite dell'influencer quindi pian piano si è avvicinato al mondo dell'influencer e da lì si è aperto come dire la cosa piccola attività piccolissima direi micro che oggi sta crescendo in rete ma soprattutto ciò che diventa interessante sta lavorando molto bene sul proprio brand è l'inormaliano perché ciò che è importante non è tanto la vendita in sé per sé attenzione ciò che diventa estremamente importante è anche diffondere la notorietà in un mercato del proprio brand e a proposito di proprio brand il secondo esempio che potete andare a vedere un esempio molto conosciuto di Paolo Penco che è un famoso orafo fiorentino tutti voi lo conoscerete sicuramente ecco ad esempio questo sito è un sito che performa molto bene anche di qui abbiamo messo vedete il traffico organico questo è legato vedete la data non so se riuscite scusate sono tornato indietro non so se vedete la data questo è il terzo ecco vedete la data del 6 dicembre ok il 6 dicembre siamo a un traffico organico di 300 e 536 visite ok cosa significa questo ad esempio Paolo Penco il figlio ha fatto il master da noi gestisce come dire questo sito in maniera ottimale anche questo vuol dire fare rete e come dire vuol dire sostituire in questo momento un traffico che non esiste più fisico che quello dei turisti a Firenze con un canale digitale lo sta facendo molto bene il terzo caso che vi volevo presentare è un caso fuori regione perché perché come dire avrei potuto scegliere lo zio in questo caso della dell'imprenditrice vedete vedete in questo caso si tratta del sito di Doriana Usai lo zio molto più famoso che è Walter Usai che è un famoso ceramista di assemini lei però col suo sito quindi hanno diciamo il suo papà è fratello del del signor Walter lei sta performando molto molto bene forse sarà un problema di tipo generazionale rispetto al sito dello zio se andate in rete trovate anche Walter Usai ecco Doriana Usai come dire performa bene questi sono i risultati addirittura vedete un traffico organico sempre il 7 dicembre di 137 persone e guardate il trend del traffico come dire nel periodo anche nei mesi precedenti sono abbastanza nei tempi tutto questo per dire che cosa allora per fare un progetto di rete bisogna avere in rete bisogna avere consapevolezza bisogna come dire non soffermarci a quello che appare cioè al sito bello con la bella grafica è importante avere anche una bella grafica sicuramente si aiuta non c'è dubbio ma insieme alla grafica per esempio il sito deve essere molto usabile bisogna che ci sia tanto sapere e guardate vi faccio ora non è un artigiano non è un esempio di artigiano ma voi intanto questi tre siti li potete andare a visitare quello che dico è attenzione non soffermatevi a quello che appare di internet perché sotto cioè questo mondo che deve essere compreso direi prima di tutto appreso compreso e poi gestito e questo è un po' l'invito bene io direi ci possiamo fermare qua e sono disponibile ad andare per come dire le domande spero che siano tante grazie per l'attenzione e finirei con una frase di Francesco Morace che ho citato prima che un amico lui insegna al Politecnico di Milano che ovviamente insegna Sociologia dei Consumi lui dice una cosa fantastica dice dobbiamo potenziare il nostro talento nel produrre felicità quotidiana quindi tutti voi con le vostre opere con i vostri lavori sicuramente contribuite tanto a generare felicità quotidiana guardate sto leggendo un libro che mi permetto in questo sto finendo ora perché lo sto divorando l'ho divorato proprio letteralmente che vi suggerisco per queste vacanze un libro un po' distante dall'economia ma c'è una correlazione con quello che noi come dire studiosi di marketing andiamo ad osservare e si intitola Biologia della Gentilezza Biologia della Gentilezza di Daniel Lumera e Immaculata De Vivo è un libro che si legge no bene benissimo perché è bellissimo ma soprattutto ci dice una cosa che è davvero fantastica davvero molto nuova Immaculata De Vivo è come dire una scienziata lavora per la Oxford University e lei ci dice oggi attraverso la scienza con evidenze scientifiche che c'è correlazione pensate scientifica fra benessere fisico benessere fisico vuol dire proprio salute salute e essere gentili e spiega il motivo parla come dire spiega in maniera molto divulgativa molto semplice cose complesse come i telomeri per esempio non so se conoscete cosa sono i telomeri però ecco lo spiega in maniera molto semplice e ci dice e ci aiuta a comprendere sia anche Daniel Lumera che come essere gentili oggi e quindi generare anche felicità negli altri ci possa allungare davvero la vita e questa è la notizia forse più importante che ci riguarda soprattutto è un periodo ormai questo grazie grazie per essere qua con noi oggi grazie mille Danio e devo dire che è stata veramente una una presentazione interessantissima veramente molto molto interessante e anche molto utile proprio perché emerge chiaramente quello che tu hai detto al termine ovvero sia dietro quello che si vede c'è c'è molto di più molto di più che deve essere capito e che effettivamente è un è un mondo molto più complesso e articolato di quanto possa sembrare tutto sembrerebbe quando si parla della spontaneità e quant'altro in realtà è tutto molto gestito molto calcolato e questo deve essere deve essere tenuto tenuto presente e quindi credo che quello che tu ci hai illustrato stasera sia veramente molto molto interessante ti ringrazio anche per le biografie ti ringrazio per l'approccio perché almeno per ciò che mi concede da una chiave di lettura tutto tondo e come si diceva all'inizio non necessariamente strumentale tra l'altro anche con delle indicazioni operative interessanti da chi si occupa della logistica ad altre ad altre realtà Costanza c'è qualche richiesta specifica per sì c'è una domanda più legata magari ad un riferimento particolare Lucia chiede se è possibile avere dei riferimenti per un primo approccio a Google Analytics imparare ad utilizzarlo se ha qualche consiglio sì certo guardate Google è un mondo fantastico è molto particolare può essere come dire anche ripeto avversato ma Google tutto quello che fa mette a disposizione tanti tutorial gratuitamente per farli in rete potete fare addirittura c'è una sorta di academy di corsi che Google mette a disposizione gratuitamente ovviamente si fanno tramite la rete quindi la rete vuol dire attraverso come dire una fruizione digitale se invece volete come dire partecipare a dei corsi anche in presenza quando li potremo rifare anche al PIN che Alessandro l'altro conosce bene quindi anche noi facciamo corsi divulgativi divulgativi attraverso l'alta formazione con questi strumenti quindi abbiamo dei docenti che sono molto bravi a fare queste cose ma li trovate da tutte le parti insomma questi corsi l'importante è trovare il bravo docente quello sì quello può fare la differenza però ormai ce ne sono così tanti ok quindi Google Analytics se poi Lucia si vuole vuole cominciare a entrare in questo mondo posso suggerire anche il mio libro di testo che ce l'ho qua visto così mi faccio un po' di autopromozione tra poco uscirà anche la seconda edizione quindi lo trovate ancora su Amazon se lo volete acquistare rapidamente uscirà la seconda edizione con delle un po' diciamo delle parti nuove però ecco va benissimo anche questo che è Digital Marketing Grammar non so se Digital Marketing lo vuole Costanza inserire mi dicono io l'ho scritto non lo posso dire però mi dicono che si legge molto bene semplice e anche qui c'è un capitolo come dire Danio Berti ovviamente l'autore c'è un capitolo che è dedicato alle analitiche a comprendere le analitiche proprio un capitolo introduttivo ok non so se ho risposto sì credo prego c'è una chiede anche se fate dei corsi divulgativi online no per ora online no perché abbiamo abbiamo provato nel tempo vi dico ci sono ottime scuole che fanno corsi online vabbè una delle più grandi in Italia vi consiglio di seguire dei corsi è Age Pharma Age Pharma piuttosto che anzi addirittura online forse è Ninja Marketing Ninja Marketing andate a vedere Ninja Ninja come i guerrieri Ninja Marketing sono molto molto bravi fanno ottimi corsi lo sapete qual è il problema esperienza vissuta è che quando si fanno i corsi online e si spiegano le piattaforme online poi alla fine non le si comprendono così bene guardate vi do soltanto un'informazione in questo senso durante il lockdown una nostra classe la non edizione del master l'abbiamo dovuta trasporre online e abbiamo fatto tutta questa roba online seguendoli passo per passo minuto per minuto vi posso assicurare è stata una roba incredibilmente faticosa incredibilmente e l'apprendimento non c'è stato tant'è che quando è finito il lockdown la prima fase e siamo arrivati a giugno noi li abbiamo riportati in aula addirittura li abbiamo dovuti riportare in aula perché l'apprendimento non era stato soddisfacente nonostante vi possa assicurare che i nostri docenti come dire sono stati non stupendi di più nel dare disponibilità a seguire perché perché si perdono tante cose si perdono tante cose quindi il contatto con l'aula ve lo suggerisco soprattutto chi di voi come dire è un po' come me un baby boomer se quindi ha bisogno dei tempi di sedimentazione un pochino più lunghi poi se si tratta di giovani io vedo le mie giovani collaboratrici ne ho sei al laboratorio sono bravissime rapidissime apprendono tutto rapidamente a me occorre un pochino di più e quindi in questo senso come dire la piattaforma mi piace vederla e analizzarla più come dire fisicamente che non attraverso uno schermo ok grazie non ci sono altre domande altre richieste possiamo chiudere l'incontro ringraziando Danio perché è stato veramente se poi dico c'è qualcuno che per le cose che ho detto non dovesse dormire stanotte io posso lasciare non riesco a dormire perché Berti ha detto una cosa ora lì per lì non mi è venuta in mente ma insomma non riesco a dormire magari potete lasciare anche la mia mail risponderò molto volentieri assolutamente ti ringrazio aggiungo solo appunto che verrà mandata una mail come abbiamo detto all'inizio con il questionario per capire anche gli spunti quello che è stato questo incontro e come si può procedere nel futuro e poi verranno messi a disposizione i materiali quindi ci accorderemo anche con Danio che magari ci farà un elenco di link io comunque le ho raccolti man mano che le diceva ho visto sei stata bravissima quindi hai detto hai scritto tutto esattamente quindi penso che possa andare bene così insomma già un po' di letture per le vacanze natalizie ci sono e comunque sia tanto qualsiasi richiesta avete i nostri contatti e quindi poi possiamo fare da tramite con Danio e quant'altro benissimo niente grazie mille grazie a voi e soprattutto buon Natale a tutti grazie grazie ancora buona serata arrivederci arrivederci anche a voi grazie Danio ciao Alessandro a presto presto grazie grazie